Avanzando nell'evoluzione Centro spirituale frattocchie, attraverso flora, guida. Avanzando nell'evoluzione, comprenderai che un astro non sa di essere un astro e che la luce delle stelle che ti appare è soltanto una piccola parte del colore che circonda le stelle. Poiché alcune luci, alcune energie non sono visibili all'occhio umano dato che non provengono dal regno umano ma da quello animico ed è quindi a quello che devi riferirti se vuoi vedere ciò che umano non è, ma è luce vera. La luce bianca che vedi intorno ad astri e stelle è ricca di sostanze fisiche per voi accessibili ed è da quelle che potrete cogliere spunti attraverso i quali approfondire tali discorsi. È energia positiva quella che vedete, ma è la parte più povera di quell'energia così come voi vedete oggi solo una parte di voi senza conoscere realmente ciò di cui siete fatti a livello vibratorio. Grazie. 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 Grazie.